e amici di bella sicilia guardate dove siamo oggi un tuffo nel passato in questo borgo siciliano con il messaggio di san francesco fateci sapere da dove ci state guardando noi siamo proprio nel cuore di gangi uno dei borghi di bella sicilia borgo delle bandonee dove attualmente in corso vivere in assisi guardate che ambienti tutto curato dei minimi particolari per far vivere al visitatore l'atmosfera di una volta grazie ciao massimo da lecce ciao anche renata dalla florida guarda guarda che bello tutti gli ambienti di vivere in assisi e qui giochi antichi ciao carmela allora noi siamo nel borgo di gangi perché appena appena preso il via vivere in assisi quattro giorni che ci permettono di fare un tuffo nel passato di scoprire questo bellissimo borgo siciliano fateci sapere quindi da dove ci state seguendo fateci sapere quindi da dove ci state seguendo qui si preparano le candele qui si preparano le candele a scoprire gli altri ambienti creati per questa dodicesima edizione di vivere in assisi guardate che bello guardate che spettacolo grazie 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 e drauf amici questa è solo una piccola anticipazione di ciò che potete vedere in questa edizione di Vivere in Assisi.